Ciao Mellon, io sono Sté, l'aspirante elfo e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi parliamo di druidismo, ovvero quella corrente spirituale moderna che si rifà agli antichi druidi. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkeniano e desoterismo. Vediamo un po' chi erano questi druidi. I druidi erano i bardi, ovvero uomini e donne sapienti all'interno di un clan che raffiguravano maestri, saggi, guaritori, veggenti, astrologi, consiglieri, insomma una figura molto importante e di spicco all'interno della società celtica. I principali pilastri su cui è basato il credo dei druidi e quindi che il druidismo riprende consiste nel considerare la natura sacra e divina. Anche gli animali sono considerati sacri e nessuna creatura ha supremazia sull'altra. Incentiva la pace, l'armonia, il rispetto, la bellezza e l'uguaglianza. Molto importante è anche l'amore per se stessi, per il proprio corpo e la propria mente perché amando te stesso puoi amare al meglio anche l'altro perché è molto importante per i druidi e anche l'amore per ogni essere vivente che vi è in natura. Un altro pilastro fondamentale e molto importante è entrare in armonia e sincronizzarsi con i cicli della natura. Un'altra cosa importante è il rispetto del pensiero altrui quindi la libertà di pensiero e incentiva anche alla verità, perseguire la verità, la giustizia e una cosa estremamente importante che a parer mio dovrebbe essere la base di ogni credo spirituale, percorso spirituale e religione, è l'amore per la vita e la bellezza per la vita e la bellezza in generale e incentiva alla creatività. I druidi credono anche negli spiriti che vengono venerati e venerano anche gli antenati. Quindi il druidismo si rifà agli antichi druidi, ai suoi principali pilastri, così come il neopaganesimo si rifà al paganesimo e al suo credo. E queste erano le principali cose da sapere riguardanti i druidi e il druidismo. Chi lo sa magari guardando questo video ti sei riscoperto un druido nell'animo e quindi magari il tuo credo è simile al loro percorso spirituale e quindi potresti intraprenderlo anche tu. Chi lo sa se vuoi fammelo sapere nei commenti sotto. Se non ti è chiaro qualcosa o se sei interessato ad altri video di questo tipo fammelo sapere nei commenti sotto perché io sono sempre ben lieta di aiutarti e di venirti incontro e di farti sapere tutto ciò che io so riguardante a questo mondo pagano esoterico. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ti ringrazio di essere arrivato fino a qui e ti ringrazio di sostenermi con il mio canale guardando il video, mettendo like o iscrivandoti al canale. E ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon! Ciao Mellon!